in collaborazione con bene torniamo insieme in collaborazione con Q Consulenze Finanziarie l'ultima rubrica di questa puntata saluto il titolare Massimo Guerrieri buongiorno benvenuto buongiorno Paolo Giovanardi ufficio studi per Q Consulenze Finanziarie allora come sempre noi diamo uno sguardo alla realtà delle cose e ovviamente parliamo anche di fatti accaduti e di preoccupazioni che alla fine Guerrieri mi viene da dire erano infondate allora sulle elezioni di Trump si pensava alla fine del mondo dal punto di vista della reazione dei mercati invece anzi le cose sono andate direi abbastanza bene in termini di investimenti poi anche il referendum spaventava molto invece diciamo che non c'è stato nessuno scossone ma cosa è accaduto? si è sempre bene fare un discorso legato alla realtà dopo questi due eventi le borse hanno reagito in maniera molto positiva salendo e anche di tanto ovviamente questo ci deve fare riflettere perché come abbiamo detto più volte la situazione economica in Europa sicuramente l'Italia è un caso a parte ma poi semmai spendiamo due parole ma anche in America con il calo dei profitti delle aziende USA non è che sia proprio così dinamica come le borse ci fanno pensare quindi dobbiamo dire a chi ci ascolta a casa ecco di non farsi ingannare perché vediamo proprio come questi movimenti bruschi a fronte di incertezze parlavamo di Trump piuttosto che del referendum nostro italiano non sono altro che segnali diciamo di instabilità ovvero quando le cose dovrebbero dare dei segnali appunto non positivi per l'incertezza che si va a creare in realtà invece succede esattamente il contrario beh bisogna stare a maggior ragione con le antenne dritte bisogna stare attenti io mi rendo conto che diciamo un po' il contrario di quello che si legge sui giornali o meglio sui mainstream perché poi se si va a parlare con gli analisti noi tutte le settimane siamo a contatto con degli analisti premi Nobel piuttosto che professori della Bocconi come già avevo accennato i problemi ci sono è chiaro che il mercato è governato da movimenti speculativi e di conseguenza questi movimenti speculativi tendono a volere diciamo detto in molto semplice tenere sulle carte ovvero un mercato che continua a salire fa comodo a tutti il discorso è che alla fine poi ci si dovrà scontrare prima o poi con dei dati reali e questo è un po' quello che noi messaggio un po' che vogliamo anche dare a chi ci ascolta a casa ecco di non cadere spesso e volentieri in specchietti per la lodola perché io capisco che chi è a casa ha fame di rendimenti e cavalcare a mercati che salgono sempre e spesso e volentieri distaccandosi da distaccandosi da l'economia reale quindi che sono gli utili che sono poi i profitti che le aziende fanno che sono in calo le difficoltà legate ai debiti sempre più in aumento non solo degli stati ma anche delle aziende insomma sono cose che ci devono far pensare e quindi io invito sempre chi è a casa a essere prudente e anche andare a consolidare degli utili laddove ci sono per non farsi no? anzi perché spesso e volentieri la tentazione è quella di mettere altri soldi no? in asse trischiosi appunto perché l'essere umano è così è un po' goloso se vede di più dice vabbè allora mi ricordo l'anno scorso che si parlava è finito no? si parlava di siamo fuori dal tunnel novembre-dicembre dell'anno scorso poi dopo a gennaio febbraio marzo aprile abbiamo avuto 3-4 mesi che sembrava che finisse il mondo ecco quindi molta molta attenzione a non farsi diciamo come sempre la prudenza deve regnare sovrana ecco lo stesso fenomeno possiamo dire che sta capitando anche in alcune situazioni che riguardano imprese private per esempio le banche MPS Unicredit certo le notizie sono abbastanza preoccupanti eppure in borsa hanno avuto dei rialzi perché giovanardi? sì anche qua è un po' la stessa faccia della medaglia di cui si parlava prima se torniamo indietro di un po' di tempo prima Massimo accennava quando si parlava l'anno scorso che sembrava che tutto andasse per il meglio la stessa cosa succedeva con le banche noi l'anno scorso mettevamo un po' in guardia dal panorama delle banche facevamo un po' a volte anche uccelli del malaugurio nel senso che dicevamo i dati come sono in realtà se noi guardiamo lo scenario delle banche si è andato un po' avverando quello che anticipavamo cioè un deterioramento della situazione bancaria in generale non scordiamoci che nei mesi scorsi con le due banche veneti quindi senza citare le quattro banche famose che sono andate in difficoltà ma se guardiamo ad esempio Veneto Banca e la Popolare di Vicenza ha interessato ha interessato oltre 200.000 risparmiatori che hanno perso i loro risparmi ed è stato lo scandalo finanziario in Italia più grande della storia quindi ha superato anche ampiamente le dimensioni di Parmalat questo è passato un po' sotto traccia ma la dice lunga su come è messo il panorama delle banche italiane venendo i giorni nostri se guardiamo ad esempio Montepaschi è un po' il caso sotto la lente basta pensare che Montepaschi ha chiesto all'Europa di poter avere una proroga cioè poter avere come limite il 20 gennaio 2017 per poter cercare soldi dai risparmiatori cioè avere dei nuovi capitali per diciamo così ricapitalizzare la banca proprio notizia di stamattina ufficiale che l'Europa ha negato questa proroga e quindi Montepaschi dovrà cercare questi capitali freschi dai risparmiatori ovviamente perché è lì che si va a cercare per poter andare avanti probabile a oggi sembra probabile che farà un'altra settimana in cui cercherà ulteriormente di rastrellare capitali ai risparmiatori che poi sono gente comune perché gli istituzionali hanno già fatto questo questo versamento dei capitali avrà un'altra settimana dopodiché se non riuscirà a trovare i miliardi di euro che mancano probabilmente dovrà essere lo Stato che in via provvisoria interverrà nel capitale della banca e questo la dice lunga su qual è la situazione la stessa Unicredit è in una situazione ovviamente molto diversa però se guardiamo cosa è successo in questi giorni che ha avuto anche rialzi molto forti il rialzo più grande addirittura un più 17% l'ha avuto il giorno in cui ha presentato la propria situazione anche un po' al piano industriale in cui ha detto che chiuderà un altro migliaio circa di filiali lascerà a casa altre quasi diversi esuberi moltissimi esuberi e 3.900 in Italia esatto e addirittura chiederà 13 miliardi circa una finanziaria italiana tanto per dare i numeri 13 miliardi ai risparmiatori questo è stato salutato con successo ma se si pensa che di questi 13 miliardi la maggior parte andrà per coprire i buchi i buchi sono sostanzialmente le sofferenze non scordiamoci le sofferenze sono cioè quei crediti che non vengono riscossi perché le aziende chiudono ancora o i privati non riescono a rimborsare sono ancora i massimi storici le sofferenze in Italia quindi più della metà di questi capitali andranno per coprire i buchi quindi diciamo che i rialzi e i ribassi che si susseguono sono più da attribuire alla speculazione sappiamo che la regolamentazione è sempre più bassa cioè ci sono sempre meno leggi che impediscano alle banche o ai grandi investitori di speculare a rialzo o a ribasso e quindi assistiamo a queste montagne russe al risparmiatore cosa interessa noi rinnoviamo questo consiglio cioè fare certamente riferimento per i propri risparmi a quelle banche sane non sono tantissime ma ancora ci sono e hanno dati anche molto buoni alle banche più sane che ci sono sul sistema e anche attenzione quando si fanno investimenti che sostanzialmente sono dei prestiti esempio obbligazioni sono dei prestiti che io faccio a una banca oppure pronti contro termine conti deposito certamente andare a vedere come è messa la banca è importante perché è sostanzialmente quello che a noi permetteva l'anno scorso di dire a chi ci guardava attenzione perché alcune banche sono in difficoltà allora vado velocissima invece sempre rispetto anche ai consigli da dare in virtù di tutto quello che abbiamo detto guerrieri parliamo degli investimenti per capire anche e soprattutto per avere qualche consiglio per i telespettatori allora partiamo dagli investimenti col profilo di rischio più basso cosa possiamo dire su questo? le obbligazioni noi vediamo che con i tassi che si sono ridotti ai minimi quindi abbiamo rendimenti negativi quindi vediamo che in questi ultimi 18 mesi poi semmai lo vediamo anche in una slide abbiamo assistito ai fondi monetari ovvero investimenti entro i 12 mesi che sono appunto negativi parliamo di un meno 0,67 in questi ultimi 18 mesi ma chi a casa ha investimenti di questo tipo se ne sarà accorto vedendo dei meno e gli obbligazionari hanno avuto un più perché per effetto dei tassi in calo per effetto dei tassi in calo i prezzi sono saliti specialmente guardando gli ultimi 18 mesi fino a diciamo la prima parte dell'anno ormai anche in questa fase noi reputiamo che specialmente poi con un'inversione di rotta dei tassi in questi giorni anzi ieri per la precisione la Federal Reserve ha aumentato ulteriormente uno 0,25 i tassi in America in Europa sono previsti ancora bassi ma sicuramente un'inversione di tendenza è in atto quindi le obbligazioni noi le vediamo oggi non più rendimenti privi di rischi ma li vediamo come rischi privi di rendimento cioè quel po' che potevano dare l'hanno già dato 18 mesi fa oggi si sta andando come rendita ma se vediamo appunto i rendimenti dell'ultimo periodo sono rendimenti negativi oggi per avere un più bisogna andare a scadenze molto lunghi quindi prendersi dei rischi alti perché ricordo che più la scadenza del titolo è lunga e più il rischio aumenta non solo di rimborso ma anche nel breve perché il prezzo ha oscillazioni maggiori quindi i monetari non sono da fare perché come vediamo la tendenza ad avere dei meno continuerà gli obbligazionari il consiglio che noi diamo è quello di portare a casa anche nell'ultimo incontro che abbiamo avuto ormai per avere rendimenti dagli obbligazionari si vanno a fare delle scommesse perché anche i fondi non sanno più come fare a dare rendimenti con rischio basso e quindi il consiglio su queste due tipologie è di smobilizzare sia monetari che obbligazionari sono praticamente quasi in chiusura due minuti invece per gli investimenti con il profilo di rischio alto Giovanna sì brevemente anche in questo caso volevamo solo dare qualche numero molto rapido quindi avevamo preparato la slide perché ci sono stati questi rialzi molto forti in queste ultime settimane abbiamo detto dopo il referendum in Italia in America dopo le ultime elezioni dopo questi rialzi molto forti diciamo che mediamente i fondi comuni se andiamo a vedere negli ultimi 18 mesi sono grossomodo in pari sia i fondi più speculativi cioè i fondi azionari che fanno meno 1 meno 1,5 sia i fondi bilanciati che fanno più 1,30 più o meno siamo in pari quindi anche in questo caso è certamente un buon momento per andare a fare dei ragionamenti sia in ottica di prudenza che anche di sfruttare quelle opportunità che ci sono negli investimenti quindi mi pare per chiudere anche questo spazio Guerrieri una riflessione anche da parte dei risparmiatori ci deve assolutamente essere nonostante notizie che magari sono appunto difficilmente interpretabili da chi non ha le capacità e le conoscenze esatto vediamo proprio come la volatilità sta prendendo il sopravvento cioè a fronte di notizie negative i mercati salgono e a volte scendono senza sapere il perché abbiamo appena visto che negli ultimi 18 mesi quindi non ieri l'altro i rendimenti cioè chi ha fatto investimenti in fondi sia monetari che azionari oggi si ritrova se va bene con gli stessi soldi e di conseguenza perché tenere rischio visto che ormai il rischio è sia sulle obbligazioni che sulle azioni a fronte di un aumento di volatilità senza avere rendimento anzi posso anche dire perché lo vediamo che chi ha investito in fondi non negli ultimi 18 mesi ma negli ultimi 12 mesi oggi sta perdendo allora uno dice signori noi è un po' che ve lo diciamo iniziate a guardarci perché veramente andare a investire soldi per perdere perché piuttosto come dicevamo uno li tiene su un conto deposito anche se prende poco però va a privilegiare un discorso di sicurezza appunto fatto con banche sicure bene ci fermiamo qui grazie a Massimo Gorriere grazie a Paolo Giovanardi grazie a Cuconsulenze Finanziarie buona giornata ci rivediamo nelle prossime settimane con voi invece ci rivediamo domani ho il tempo per dirvi